ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con quest'action figure di Mewtwo direttamente dalla serie pokemon battle feature figure quindi le action figure che hanno una gimmick partiamo un secondo dalla scatola e poi vi faccio vedere il nostro Mewtwo allora la scatola è come quella di Charizard molto semplice vediamo in alto la scritta pokemon qui deluxe action cioè la gimmick della figure qui un'immagine del nostro Mewtwo il nome di Mewtwo in varie lingue il tipo psico sul lato nulla qui sul lato 0-3 anni ok solite cose qui sul retro tutti i pokemon della wave come vi ho detto mi potrebbe interessare greninja nel caso riuscissi a recuperarlo per quanto riguarda gli accessori abbiamo solamente questa che fa parte appunto della gimmick qui dietro infatti ha i fori per le tre dita di Mewtwo per fare in modo che poi venga sparato questo qui invece il nostro Mewtwo allora il volto non è fatto male nella parte visto frontalmente non mi piace tantissimo ma nei due lati invece sì poi non ci sono articolazioni quindi è tutto fermo l'unica articolazione è qui al busto ma fa parte della gimmick e poi vabbè la coda che può ruotare ma alla fine se volete reggerlo in piedi dovete metterla o lateralmente o verso l'alto potete utilizzarla un po come appoggio nel caso non resti in piedi ma basta stare un attimino attenti e si riesce a far reggere anche senza coda quindi non ha senso stare a diventare matti per quel motivo per il resto nient'altro i colori sono fatti bene a livello di painting è perfetto non ci si può assolutamente lamentare guardate qui è realizzato molto molto bene e poi ovviamente ha la sua gimmick quindi bisogna andare inserire le tre dita della mano all'interno dei fori dell'onda che vi ho fatto vedere prima abbassiamo un secondo la coda potrebbe dare fastidio poi ruotiamo il corpo e lanciamo come vedete come anche per charizard anche a Mewtwo spara parecchio forte poi ovviamente qui all'interno del set non può andare molto lontano l'onda andiamo verso l'alto dove arriva beh niente male quindi la gimmick diciamo che funziona molto molto bene a livello di potenza anche del lancio è ottima quindi si riesce a far lanciare tutto molto molto lontano ecco appena detto che si riusciva a far leggere anche in piedi da solo e adesso non ci vuole più stare comunque qui andiamo a inserirgli questo così ve lo faccio vedere anche in caso vogliate proprio posizionarlo con la sua onda in mano guardate qua niente male neanche questo se volete fare una sorta di diorama come magari Mewtwo contro qualche altro pokemon e niente non c'è altro da vedere è tutto qui molto semplice come figure ma davvero davvero ben fatta se riesco a trovarla su amazon vi lascio il link qui sotto in descrizione per acquistarla anche se l'ho presa parecchi anni fa quindi non so se si riuscirà ancora a trovare comunque per questo video è tutto fatemi sapere le vostre opinioni come sempre vi sotto nei commenti alla prossima e ciao a tutti